Per poter dare via a questo momento, non semplicemente ludico, ma un momento particolare di abbraccio, di un momento in cui ci si fanno gli auguri, auguri sentiti, un momento alla fine di allegria, di allegria, da tanto dolore che purtroppo si vive quotidianamente e da tanti momenti di tensione. Il messaggio è che la ricerca ci può aiutare a sconfiggere il tumore e a Natale dobbiamo assolutamente fare in modo che questa speranza possa essere veramente forte per le persone che aiutiamo. Mi hai letto nel pensiero, perché io poco fa ho detto questo, un luogo che sembra di dolore ma è anche di gioia. La gioia è perché ci si può prendere cura, ci si può prendere cura di noi stessi perché il nostro corpo si ammala, è vulnerabile, ma è importante avere le cure, le cure necessarie per poter riuscire ad aiutare le persone. Credo proprio di sì, credo proprio di sì, hanno fatto il possibile per venire, proprio per dare vicinanza a questa struttura, ai nostri pazienti, pazienti che sono pazienti particolari, pazienti onquemotologici e quindi un momento di gioia, di serenità, credo che sia importante appunto da offrire. L'importante è appunto il lavoro di squadra, perché la squadra unita è una squadra vincente, perché da solo non si va da nessuna parte. E io ho la fortuna di avere tantissimi collaboratori seri, motivati, che fanno il lavoro con grosso impegno. Da dove è nata questa idea? Ma questa idea è nata proprio perché mi è capitato una settimana fa di notare in alcuni pazienti uno stato un po' di calo dell'umore, perché chiaramente sottoposti a terapia importante. Ecco allora, proprio stare a fianco e sostenere e supportare. Tieni conto che noi quest'anno abbiamo anche attivato un servizio che sta andando bene, di psico-oncologia e di nutrizione, perché il paziente oncologico non è soltanto trattare il paziente con la terapia, ma anche tutto il controllo. Parteciparvi, perché è un reparto che non solo è fiore all'occhiello della città e dell'ospedale di Pagani, ma anche molti di questi momenti che servono molto anche psicologicamente ai malati che stanno sostenendo una lura lotta contro il male, per cui questo momento di divertimento fa bene a tutti. Ce ne vorrebbero di più però? Ce ne vorrebbero di più, infatti l'augurio che noi facciamo per Natale, per il nuovo anno e soprattutto che i malati possano guarire, questo penso sia il migliore augurio che si possa fare per le festività natalizie. Allora certo, noi come direzione strategica ci tenevamo a essere presenti qui oggi, a salutare innanzitutto i pazienti, ma soprattutto i nostri operatori che tanto si prodigano per questa peculiare fascia di pazienti con caratteristiche ben specifiche. Un ringraziamento va dal dottor Di Lorenzo, il direttore della novità operativa, e a tutto il suo staff che ha permesso tutto ciò. E' bello vedere il sorriso in un luogo dove quotidianamente purtroppo si piange. Sicuramente, allora ci sono dei giorni di sofferenza che devono comunque provare questa particolare tipologia di pazienti, ma in questi momenti goliardici abbiamo la possibilità di pensare ad altro e di pensare ai giorni di festa, perché Natale è una festa particolare, è una festa che sicuramente produce sorrisi da parte di noi. Al di là di questo momento, non voglio definirlo ludico, ma un momento di amicizia, di fratellanza. Spesso faccio la battuta, Cristo si è fermato a deboli, perché poi dopo, oltre, provare a reclutare personale edificio. Qui non abbiamo grosse difficoltà per recuperare medici e eccellenze, quindi possiamo ritenerci diciamo a quanto fortunati, quindi le possibilità di crescere le vedo più perseguibili rispetto al resto. Grazie. 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 Grazie.